Sampdoria Esports Quindi non vedo l'ora di rappresentare questi colori e cercare di dare il massimo proprio per il campionato Diventare un gamer di PES per questa grande società, l'Unione Calcio Sampdoria, per me è un grande motivo di orgoglio Perché è la società che tifo fin da bambino, era il mio sogno, si è realizzato e non vedo l'ora di iniziare la E-Serie A E portare in alto i colori più belli del mondo Sampdoria Esports Grazie 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 Grazie